Stanotte l'America va a votare per il prossimo Presidente degli Stati Uniti, siamo con il Professor Marco Sioli, docente di Storia dell'America del Nord presso l'Università Statale di Milano. Professor Sioli, che campagna elettorale è stata? Dunque è stata una campagna molto dura e di fatto tutti si sono chiesti anche il perché questa grande democrazia abbia espresso due personaggi così complessi e con un passato antico, quasi vecchi amici durante la presidenza Clinton che ora si ritrovano a cerrimi nemici. La riflessione però deve essere allargata a quello che è sempre stato nella storia degli Stati Uniti, cioè alla fine si arriva alla campagna elettorale e si tirano fuori le unghie appunto per riuscire a vincerla. I colpi più bassi chiaramente sono quelli che danno il risultato. Ci sono dei precedenti di un'elezione così dura, così controversa tra i due candidati? Beh, basta solo tornare indietro di pochi anni e quindi si va a George W. Bush al Gore e qui vediamo che addirittura la Florida rimane in sospeso per moltissimo tempo sino quando la Corte Suprema non decide appunto per la vittoria di George W. Bush e di fatto se torniamo al passato possiamo andare indietro di cento anni. 1876 anche in questo caso l'elezione è veramente complessa e alla fine di nuovo decide la Corte Suprema. Parliamo dei due candidati. Qual è il gruppo sociale su cui deve puntare Donald Trump per portare a casa la vittoria? Beh, ha già puntato moltissimo su questi rednecks che sono appunto i poveri bianchi che sono rimasti fuori da questo sogno di Barack Obama. Barack Obama ha distribuito una ricchezza importante, una middle class, spesso anche nera, che però appunto non è riuscita a colare come si usava a dire durante l'epoca di Ronald Reagan in questi ceti sociali più bassi. Questo porta a un odio di questi ceti sociali più bassi rispetto ai temi classici della politica americana. Quindi di fatto quanti lavori sono stati creati? Ok, l'indice di disoccupazione di chi lascia Barack Obama è bassissimo, però i lavori sono appunto di scarsa qualità e quindi di fatto questa gente è arrivata al punto di odiare Barack Obama e in un certo senso anche Hillary Clinton che rappresenta il sistema. Quindi di nuovo nella storia degli Stati Uniti si fa spazio all'idea di populismo. Sappiamo tutti che il populismo non è stato creato negli Stati Uniti. Narodini è un termine russo e quindi parte dalla Russia e poi Unione Sovietica. si riverbano negli Stati Uniti con un grande partito populista che lascia spazio a queste idee nativiste. Quindi di fatto si cerca di difendere i propri spazi in quanto nativi rispetto alle nuove immigrazioni. Non importa se poi queste nuove immigrazioni sono appunto anche queste derivate negli anni più antichi. Invece quali sono i gruppi che sono il cuore dell'elettorato di Hillary Clinton? Ecco abbiamo assistito in questi ultimi giorni a una corsa ai seggi espressi soprattutto dal voto ispanico. Sia in Arizona che in Florida moltissimi ispanici sono andati a iscriversi e quindi cercano di esprimere un voto contrario a quelle che sono poi le ideologie nativiste come dicevo prima di Donald Trump. Quindi la difesa appunto del loro status e quindi del rischio anche di non essere espulsi che questo è il tema grosso che si proporrà ai due futuri presidenti. Ha parlato di Barack Obama, ultima domanda, qual è il giudizio al termine degli otto anni del primo presidente afroamericano? Guardi, proprio venerdì abbiamo presentato a Scienze Politiche l'ultimo numero della rivista Il Mulino dedicato appunto a questi temi. Si chiamava appunto il titolo del numero è Obama una presidenza divisa o quantomeno complessa. Dire così in due parole appunto il risultato della presidenza Obama è difficilissimo. Bisognerebbe scorporarlo così come ha fatto Il Mulino parlando appunto di un bilancio della presidenza bisogna andare ad analizzare l'immigrazione, la politica delle armi e chiaramente poi tutte le issues internazionali da appunto l'accordo con l'Iran, la situazione abbastanza positiva che lascia nei confronti di Cuba anche se la questione non è risolta e tutti i lati negativi che sono appunto quelli, tutte le questioni risolte, lo stato islamico così forte che ora vediamo si sta ridimensionando però alla fine non è riuscito a fare granché rispetto ai temi. La mano tesa nei confronti del mondo arabo in effetti non è stata accettata, anzi addirittura è stata rifiutata creando un'inimicizia ancora più profonda che ha portato a nuovi attentati all'interno degli Stati Uniti, banalmente ricordo l'attentato alla maratona di Boston che ha lasciato un'America ancora più divisa.